3, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 4 e di qua 5 e 6 va giusto, è giusto così più veloce ancora si sta registrando dovevo cominciare praticamente da capo guarda lei, la telecamera l'ho fatto semplicemente perché mi attraeva ciao 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 cosa dice quel sorriso ogni nazione ed ogni razza ed età non più violenza l'amore vencerà grazie 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 Sì, sì. Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti